Perretina mia, inizio a scusarmi perché quest'oggi dobbiamo fare un qualcosa di davvero complicato Allora, dovremo scendere tutto il tempo a pinacoli pendenti E cercare di nasconderci dagli altri player e di sopravvivere a pinacoli pendenti stanno nascosti Quindi giocheremo a nascondino in un match normale di Fortnite Sai che andrà malissimo Sarebbe stato molto più semplice farlo in un server privato dove ci siamo soli di fare e ci cerchiamo Ma così siamo più motivati a nasconderci secondo me Perché ci sono circa 40 player a pinacoli che ci vorranno morti Quindi sì, sarebbe una brutta fine di sicuro Hai già pensato a qualche posto della città che è ottimo per nasconderti? Secondo me ho qualche bel palazzo Ok Cioè ovviamente qualche bel palazzo però magari sotto qualche rampa di scale O magari forse anche nel soffitto O magari ci possiamo fare anche la cupoletta e nasconderci sotto in un soffitto Non lo so, la gente si accorge di tutto Servirebbe proprio un bel punto dove nessuno va Secondo me quello sarebbe la cosa fondamentale Un bagno, dentro un bagno o qualcosa del genere Si può provare fare Allora di sicuro inizia a ragionare Dove andiamo? Eh Io sono molto bassa quindi devo Verso destra Devo fare un volo Ok Ok Ok, destriamo, destriamo Allora Però quello non era male cavolo, era una buona idea Io sono sotto Una cosa in mente che era fantastica Quindi noi non possiamo ammazzare la gente Dobbiamo semplicemente pensare a stare nascosti Se riusciamo a sopravvivere Allora a quel punto potremo andare in giro E ammazzare gli altri Io ho trovato un fucile da caccia e un trampolino Sei tu che spacchi? Sì Sì Io ho trovato la nuova arma Wow Quindi Bello Perché non posso sparare? Vabbè Allora almeno un fucile a pompa Dove ci nascondiamo? Ho un'idea Ok, dimmi Però mi serve un attimino un po' di legna È geniale Ok Completamente geniale Allora Ci sei? Hai riluttato tutto? Sì Sì, abbastanza Un fucile da caccia e un fucile a pompa Non è utilissimo Allora Questo qua è il nascondiglio più geniale Che si sia mai visto nella storia Ok Pronta? Sì, non ho capito che devi fare però Vabbè, ti seguo Esatto Il problema Aspetta, ma tu hai un trampolino? Sì Allora, torna indietro Ma Steph, che mi stai facendo fare? Lo so Prego Lo so, però ho pensato che così ci vedrebbero Ok, seguimi Ok Allora Dobbiamo usare il trampolino Ok E atterrare sulle scale antincendio e nasconderci lì Oh mio Dio, c'è un player È morto Ok Ok Scusate Non era nei nostri piani Questa è autodifesa, ragazzi Però è stato lui, non è che siamo andati a cercarli noi Esatto Io non ho altri colpi del pompa Io non avevo il pompa Aspetta, magari colpio il pompa da darti Sì, tieni Tanto non ce l'ho Ok Allora, trampolino E ci fermiamo nelle scale antincendio E stiamo nascosti così Quindi qua lo metto? Sì Vai Quindi dobbiamo atterrare proprio qui Io vado in questa Stefano, ho già provato a cecchinarmi Non è una buona idea Io devo pregare che non mi abbiano visto Tu sei nascosta? Sì, ma ti ripeto Hanno provato a cecchinare No, non importa Stai bella abbassata Mi raccomando Ci sono passi No Lì sotto Lo vedi un player? Sta prendendo il trampolino Stef, mi viene addosso No, non ci ha visti Non ci ha visti Vedi? Se ne va Se ne va Ok Lì c'è gente che fighta Infatti si sono appena uccisi E anche nella casa ci sono tre persone Quindi Le nostre regole sono che dobbiamo aspettare Che tutti fightino Se ne vanno E allora possiamo uscire e giocare normalmente Ovviamente vale la difesa per quanto possibile Cioè non possiamo sparare quelli là A tirare l'attenzione Esatto Esatto Altrimenti non sarebbe più nascondiglio Esattamente Cavolo tu sei nascosto meglio di me Perché è la scala che ti copre Infatti l'ho scelta di proposito È veramente good questo nascondiglio Non è per niente vale Io per l'occasione mi sono messa anche la skin mimetica Ho visto Ho visto Io sono la skin pesciolino perché Ma anche tu dovevi metterti in una scura Qualcuna che si confonde bene Lui mi porta fortuna Lui mi porta sempre fortuna Non c'è niente da fare Comunque mi bevo anche l'oscillone Visto che ci sono Così se mi sparano magari duro un secondo in più Mi dispiace Allora avevo visto lì gente fightare Tra 60 e 75 Tu poi non posso scendere dove sei tu no? No È tutta bloccata Vabbè stai più ferma possibile Che sennò magari qualcuno ti nota E dicevo lì credo che In quel palazzo esatto Ci sia ancora un player Che sto vedendo in questo momento Sta lutando adesso E forse ora lui se ne va dalla città Dopo che lui se ne va Non credo rimanga molta gente a Pinacoli No anche se hai sentito qualche altro sparo Ok Mi sembrano sulla destra Allora devi aspettare anche un po' Tu sei mi suoni Io non ho le cuffie Mi sono dimenticato di mettere le mie cuffie Non lo so perché ho pensato Tanto sono nascosto E quindi? Il tipo si avvicina Fere Ok No eh Se ci vede mi arrabbia Lo vedi? Sì ma stanno sparando Quindi c'è altra gente Non è così sicura sto posto E lo so ma lui è anche vicino Quindi mi preoccupo più di lui Che degli altri È sotto il campo da basket In questo momento Finché lì non ci può vedere Quando esce da lì Se alza lo sguardo Ci nota secondo me E mi cecchina in testa Perché poi non è che ci puoi fare molto Standoci Io sono il tuo incastrato Lo sai? Perché la scala Mi copre un po' Ma sono incastrato sulla scala io Quindi Ok Ok eccolo Eccolo Ok Io il fucile da caccia Se vuoi ci chiedi in testa Prende il trampolino Prende il trampolino Potrebbero non venire qua Non ne va Non ne va È il secondo che prende il nostro trampolino E non ci vede Esatto Totalmente Aspetta È tornato indietro Ok Stai accorto di qualcosa? Sta riprendendo il trampolino No Sì 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 Arrivai lì Si sta guardando intorno Ok ci sono player Ok Così viene distratto E non Sta C'è un tipo che lutta La zona del giardino Ok Dove c'è l'algerone E lo so infatti Ti do informazioni E sta correndo in giro Aspetta aspetta Sì 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 vedo Vedo Guarda che forse questo va Anche lui al trampolino Mi sposto un po' di così Tanto non penso di avere nessuno alle spalle E controllo Ok Sto guardando È morto? No lo sai che non l'hanno foetato? Ah ok Non so perché Forse non si sono incrociati Però c'è ancora movimento a pinnacoli Quindi noi non ce ne possiamo andare Queste sono le regole Certo Quindi non possiamo andarcene Mi dispiace Ci toccherà Eh sì Sì sparano Eh lo sento Sparano come Oh quanta gente c'era Comunque Tanta E soprattutto Che fortuna abbiamo avuto Che siamo ancora in zona Sì Quella è una bella fortuna Sì 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 Ok Eh sai che anche se sopravviviamo Stiamo andando a giocare poi con tre armi in croccia testa Sì Armi brutte Pochi colpi Zero materiali Però telicolente possiamo andare in giro A lutare per terra i rimasugli Alla fine Siamo rimasti nascosti tutto il tempo Beh sì stef Raccattiamo quello che pensiamo Esatto Che ti devo dire Allora sto controllando la mia destra Non vedo più nessuno Però si sentono ancora spari Quindi non ci siamo ancora Non possiamo ancora muoverci Dobbiamo aspettare ancora un pochettino Minimo un minuto Prima di poter andare Però Bel nascondiglio Oh io pensavo saremmo stati molto in vista Però evidentemente Essendo un posto in cui non puoi andare Nessuno ci buca l'occhio Capito? Esatto Perché due ci sono totalmente passati di fronte Quello Il primo che si è lanciato era a fianco a me Io ho detto Adesso viene nella scala Lo so No è andato dritto Capito? Lo so lo so lo so Cos'era? Cos'era? Hanno usato il trampolino E non ce ne siamo accorti? Esatto Davvero? Chi è stato? Che ansia? Ma No perché se mi viene addosso Io non me ne accorgo Mi piglio un infarto Capito? Decisamente Cioè non per altro Ma hanno preso Era rumore del trampolino no? Sì 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 Ma cavolo Ma che ansia è? Ah sì vedi da dove è sceso? Non c'erano quelle pietà for E non ci ha visto Dalla montagna? No Io mi stavo anche muovendo e tutto Non ce l'avevo di fronte anche tu Io mi stavo muovendo Guardandomi in giro No raga è bellissima Ero visibilissima eh Cavolo L'avrei voluto vedere però Accidenti Accidenti Che ridere Boh Mi sembra che poi abbia fightato Perché ho sentito rumori Fucci da pompa Però sarà ancora in città Cioè arriva costantemente Vabbè pinnacoli È normale che arriva costantemente gente È una banalità A dire che arriva costantemente gente No assurdo Ti ripeto Non so come abbia fatto a non vedermi questo Io mi stavo muovendo nel balcone Guardando tutto in giro E poi sento il rumore E' un po' da dietro Cioè poteva cichinarmi tutta la vita Tutta la vita Sai cosa faccio poi? Riguarda il replay Perché sono curioso Sono curiosissimo di vedere Come ha fatto a non vederci Perché raga è sceso da lì Era proprio di fronte ad entrambi Fede è ancora più visibile di me Perché è più in alto di me Allora Senti i rumori? No Siamo anche fuori zona Ok Quello ci sta Quindi adesso la gente finalmente va via da pinnacoli Però due minuti e venti Quindi noi ci dobbiamo muovere Quando manca un solo minuto E allora così è probabile che non ci sarà nessuno E che noi ufficialmente A parte il tipo morto Non siamo visti da nessuno in tutta la città Vabbè ma lì ci stiamo ancora nascondendo Se hai commettato un incidente di percorso No Fede abbiamo cancellato l'unico testimone Quindi non è un problema Nessuno ci ha visto Nessuno può sapere Per nessuno in questo game Noi siamo a pinnacoli pendenti Quindi alla fine comunque va bene anche così È un po' ridicola sta roba Vabbè la challenge del nascondino Pensate a farla in tutte le città Parco Pacifico Corso Commercio Boschetto Anche se lì è più difficile perché sono più piccole Più diventa piccola più difficile Esatto le case sono più piccole Però deve essere bello Dovremmo provarle in tutte le città Anche secondo me Allora Fra poco ci dobbiamo muovere Pensati un pochettino Cosa? Come scendiamo? Credo facendoci dei piatti sotto di noi no? Ok Dovrebbe permetterci di farli Dovrebbe Io non prendo il trampolino perché fa troppo casino Magari c'è ancora gente Non possiamo saperlo Per senso di logica dovrebbero essere andati via Perché tra un minuto la zona chiude E non ha più senso stare qua Ok Però per non rischiare Io andrei a prendere il loot Del palazzo che abbiamo di fronte a noi A 75 Io prenderei quel loot Ok sì l'avevo già pensato Ci accontentiamo di quello che c'è lì E via Sì dai Let's go Ok a me ne aveva fatto brillare alla fine A me sì Andiamo Speriamo bene Non costruiamo neanche Non dobbiamo farci notare nel possibile Zitti zitti Andiamo a lootare Zitti zitti C'è qualcuno Io ancora pampa verde Ma pensa te Ok ho visto dove hanno fettato delle persone E sembra non ci sia più nessuno Qua dobbiamo per forza a billare e per salire Cosa abbiamo prendibile? Fucile da caccia Molto bene Qua? Ah ok Ok io ho tutto quello che mi serve Alle m16 se tu non lo vuoi Io me lo prendo molto volentieri Sì sì Butto questo Allora prevalentemente non abbiamo colpi Giusto? Ok Qual è l'unico problema Molto pochi Molto pochi Vabbè Anche la legna Molto poca Usciamo ufficialmente dalla città E di conseguenza Svi da nascondino Andata È arrivata gente fino a lì? Ma davvero? Dove? Di fronte a noi a destra Vabbè ci sta Spero che non si guardino alle spalle Che roba inquietante però Direi Allora questa collina ci permette di non farci vedere Ti è abbassata così Il problema è la zona Che fa male Però Riusciamo a stare qui sopra E secondo me non farci vedere troppo Non ci hanno visto no? Non credo Quanto era più facile spararli? Perché poi la gente magari pensa che queste challenge siano anche semplici Ma vi garantisco che era più facile killarli questi due Se azzichiamo il punto dove stare Non ci vede nessuno No è fatta un parolone È fatta Per quello è un parolone che non userei Fino alla fine di questo match Ok Però in linea generale Sarebbe più Che hai visto? Cosa? Non ho visto Alla sinistra c'è un casino Di fronte a noi c'è proprio un player Che si fa? Vabbè continuiamo per la nostra strada Questo che abbiamo visto è l'unico che dobbiamo di sicuro cercare di ignorare Qui abbiamo il dubbio che ci sia gente Ma almeno un dubbio E qui? No 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 Però sono molto vicino Però iniziano a tirare i missili ovunque Sono dentro vero? E loro sono Non ne sono Sono molto vicini eh Ci ho provato Eh ma adesso ci arriva il missile qua Eccolo eccolo Steph Via 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 Mi ha incastrato Fa malissimo Che devo fare? Puoi billare Steph sono morta Perché? Perché ci hai fatto notare Questi sono dei pazzi con i missili Colpito col caccia Ok Si è spaventato eh Ok Quello che ho colpito si è spaventato un bel po' Non so che fare Ho tre colpi del caccia Ok No non è bello Li vuoi i miei? No Dai te li do No dammi nella metà Eh ne ho cinque Dai tieni Non rompere Tanto non ci so sparare col caccia Cioè il cecchino normale lo so anche usare Ma il caccia lo sai solo tu nel mondo Quindi non rompere Ah dove sono? Avrò Si sono spostati? Ah si lo vedi Uno è lì Steph a 30 gradi Penso che ci stia facendo il giro Davvero? Si E dietro quelle colline 30 gradi 15 Visto? Occhio eh io mi proteggo Si fa una nuova base E l'amico dov'è? Non lo so A fianco Sono lì quindi tutti e due? Si Cavolo io non ho materiali Nenche io Cioè che tristezza sta roba Ecco qua Ma vabbè come l'hai sbagliato Ce l'hai tirato in terra Caro mio Steph occhio Tranquilla Che si fa? Non è un trampolino? No Chi l'hai tirato un missile? Ma sembra che stiano Tra di loro Però sono amici eh La zona Steph la zona Oh cavolo Stanno con me Non ho più materiali Steph Mi tocca stare dietro l'albero E sono morta Non possiamo fare così nulla Non so che fare Non possiamo fare così nulla Ho finito i materiali Eh vabbè Comunque caro mio Non stavo costruendo Ci ho messo pure una vita A colpirmi Cavolo eh Vabbè mi fanno il kill Non mi vogliono rushare? Non lo so vediamo Potrebbero trovarla col rush Ho i materiali per coprirmi Sette volte da attacchi Ok E non so perché non mi sparano Boh forse se la vogliono giocare Super safe Per essere sicuri di vincere Non lo so Mi sto cercando di baitare Le testoline Ho visto Eh è stato difficile È stato difficile Dai Datemi una chance Almeno la chance voglio avere No Sembra che se la vogliono giocare Super sicuri Fino alla fine Lo so Vedi 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 Poca esposizione Colpiscono solo Quando sono sicuri È difficile Un po' Fifonia Un po' molto Sì Contando che sono due contro uno Un po' esagerato Però vabbè Ok Col pompa Sta sparando Davvero Eh vabbè Non faceva Non faceva Non faceva Peccato 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 Se sono giocata anche abbastanza intelligenti E non ci hanno dato lo spiraglio Però Praticamente è successo Comunque secondi Va bene Dai Ci siamo nascosti bene Ovviamente Non potevamo affrontare un fight finale Con Cioè con quell'equipo Con quei materiali Però secondo me va benissimo Ci siamo nascosti bene Obiettivo riuscito Esatto In ogni caso Qua sotto altri video Iscrivetevi al canale Se non avete ancora fatto Campanellina Consigliateci nei commenti Magari qualche altra sfida Super mega complicata Fateci sapere se ci volete vedere A fare nascondino Corso commercio Parco pacifico E tutte quelle zone lì E ci fermiamo così Ciao ciao